Angelo Zini dice no alla rigassificatore a Piombino. Si vogliono accelerare i tempi di realizzazione, ma secondo il sindaco di Portoferraio anche l'Elba deve dire no a questa ipotesi e in qualche modo unirsi alla voce dei sindaci della Val di Cornia. Il governo ha deciso per il porto di Piombino perché è la soluzione, secondo il governo, più veloce per poter realizzare un rigassificatore. Rende l'operativa nella prossima primavera perché quello è l'obiettivo che il governo ha rispetto ai tempi e alla programmazione delle criticità che si stanno programmando, definendo sull'emergenza energetica. C'è un iter autorizzativo che partirà, che avrà bisogno di 120 giorni, così come si dice, e che dovrà passare tutta una serie di pareri eccetera eccetera. La posizione del, mia personale, e credo anche dell'intera Isola d'Elba, non può essere altro che quella che hanno espresso gli altri territori sul continente, da Piombino a Follonica e a tutta la Val di Cornia. Cioè quella di essere contrari a un'ipotesi di questo tipo perché in linea generale un impianto di rigassificazione è comunque un impianto che ha, seppur limitatamente, dei rischi comunque e poi perché in linea ancora più generale, come si è detto, non sono gli obiettivi strategici per la transizione ecologica, non è quello a cui bisogna puntare. Adesso c'è l'emergenza e quindi di fronte però a una posizione di questo tipo noi come territorio, noi come Elba chiediamo due cose fondamentalmente, anzi tre, primo di essere coinvolti nel processo che di qui in avanti andrà avanti su questo problema e finora su questo ci è stato dato, diciamo, ascolti. Secondo è che per quanto riguarda le garanzie che dobbiamo comunque mettere in campo anche noi come territorio ilbano e arcipelago sono di due tipi, uno di carattere, diciamo, relativamente alla sicurezza, per sicurezza si intende per quanto ci riguarda la assoluta garanzia che qualsiasi tipo di intervento di ricassificazione fatto nel porto di Piombino non interferisca assolutamente con i collegamenti marittimi da e per l'isola delpa e questo non solo nel momento in cui si farà l'impianto ma anche in tutte le fasi in cui quell'impianto verrà alimentato dalle navi gasiere che arrivano perché si dice che una manovra di attracco di una navi gasiera dentro al ricassificatore avrà una durata di circa due ore. Quindi due ore che significa? Che ci saranno problemi di trasporti, di collegamenti? Si faranno di notte? Cioè questa roba è la garanzia che noi chiediamo perché per noi è continuità territoriale questa, è trasporto, cioè è un diritto diciamo sacrosanto di mobilità. Seconda questione legata invece più ampiamente ai rischi possibili di natura ambientale che sono certamente quelli più prossimi nelle acque vicino al porto e nelle acque dove c'è l'impianto di acquacultura diciamo nel golfo di Follonico ovviamente ma è anche tutta l'area che sta di fronte a Piombino che è l'area del parco nazionale a mare, che è l'area del santuario dei cetaci, che è l'area della riserva Mabunesco, cioè l'area dove noi siamo e che è interessata perché comunque le rotte delle navi gasiere che arriveranno a Piombino passeranno attraverso queste aree. Quindi queste sono le tre questioni che noi metteremo in campo assolutamente. Dopodiché se mi si chiede ma lei è d'accordo sui classificatori la risposta è no.